Siamo qui all'Officina della Viera con Alessandro Streparola, proprietario della palestra Total Training di Milano, nonché del Team Warriors. Alessandro, due parole su dove è la palestra e le discipline che fate, diciamo il programma del 2015. Non ci sono cose migliori a livello di preparazione a tetra per uno sport di combattimento, quello può essere il crossfit. Siamo tra Milano e Sesto, all'Altezza Gorla, di Imbresista 37. Siamo aperti da le 7 del mattino alle 10 di sera e siete tutti invitati a prendere i nostri corsi con i nostri maestri. Allora, diciamo che hai fornito un'informazione dettagliatissima per quanto riguarda la tua palestra, quindi una persona che ti vuole trovare non farà sicuramente fatica a trovarti. C'è un programma del 2015, come sono gli allievi? Hai delle preparazioni speciali in programma? Per quanto riguarda la moneta, io affido tutto al mio amico e al mio amico M.S. Wando Ferreni, che appunto è il fondatore responsabile del Team Warriors Milano. Quindi da livello tecnico, con l'eterno anche acqua bianca. Siamo preparando i campionati italiani di Muay Thai per quanto riguarda il Brazilian Jiu Jitsu, invece siamo preparando gli europei, la Coppa Italia, che si svolgeranno anche questi nel 2015, sempre con un grande amico maestro. Mentre per quanto riguarda il crossfit... Diciamo che è una palestra in via di evoluzione, quindi non si può che sperare il meglio appunto per questa palestra. Allora, noi ti ringraziamo appunto per l'intervista che hai rilasciato a Budo Intermational. E facendoti i nostri migliori auguri ci rivediamo alla prossima tappa della FISCAM. Grazie mille!